ci aspettavo di arrivare in finale raga è che perché lo spirito con cui ci siamo lanciati in questa cosa è stata come si suol dire un po per le lolle insomma poi è diventata in realtà piano piano una cosa molto seria quindi abbiamo fatto con leggerezza senza pensare alle conseguenze delle nostre azioni degli responsabili perché adesso siamo in finale tutte le esibizioni che abbiamo fatto rappresentano qualcosa che siamo ed è la scommessa nostra è stata portare noi stessi ogni volta sul palco al massimo della convinzione per motivazioni diverse sono praticamente tutte importanti per questo percorso secondo me asilo republic e luna sono diciamo i due i due opposti i due i nostri due lati della della medaglia l'ambra ci ha proprio fatto la scuola del come si sta sul palco come si reagisce alle camere che poi la lezione fondamentale che ci ha dato cerca di essere sempre te stesso perché questa è la vera cosa che arriverà io sta finale me la immagino proprio che ci divertiamo ragazzi ci dobbiamo divertire come dei pazzi e far divertire e far divertire cioè questa è davvero una festa finale